Questa azione legale non è in alcun modo un attacco nei confronti della categoria, si è premurata di specificare Air France. Eppure, la lettera con cui il vettore ha annunciato il ricorso alla giustizia nei confronti del principale sindacato piloti, accusato di aver impedito la messa in opera degli accordi di produttività, è stata letta esattamente in tal senso. Una cosa mai vista, per giunta annunciata a mezzo stampa, con toni che di certo sono giornalistici, ma che quasi sono una dichiarazione di guerra contro i piloti. Questo annuncio, insomma, ci ha lasciati profondamente costernati. La filiale del gruppo Air France KLM ha inoltre annunciato nuovi tagli nell'ambito del piano di ristrutturazione da qui al 2020, 80 milioni di euro di risparmi, soppressione di tratte in perdita e rinvio dell'acquisto di nuovi velivoli. Il periodo, a causa della serrata concorrenza nel corto e medio raggio, è di grande turbolenza. A settembre la compagnia aveva anche incassato un colpo da 400 milioni di euro a causa dello sciopero dei piloti, organizzato proprio dal sindacato in questione.